Su questa partita mi viene da sorridere amaramente, perché la vicenda del recovery plan in Italia è veramente una vicenda paradigmatica di come si fanno le cose da noi. Nel senso che noi siamo partiti a metà agosto con il governo che dice alle regioni Corriamo insieme, preparateci le proposte, fatecele avere che entro settembre presentiamo a Bruxelles il piano nazionale e in questo modo ci danno il 10% di risorse in anticipo senza nessuna dimostrazione di nulla, progetti e quant'altro. Io ho fatto lavorare i miei colleghi a Ferragosto e il 5 settembre abbiamo mandato giù con una lettera del nostro Presidente 32 aggregazioni di progetti, l'abbiamo detto tante volte e da lì non si è più saputo nulla. Tra Natale e Capodanno l'ultima regione, la Lombardia, ha portato i suoi progetti, via via le regioni hanno portato i progetti. Non c'è mai stata da parte del governo una risposta di nessun tipo, ci saranno dei criteri di ripartizione di un pezzo di questo recovery plan a favore delle regioni, le regioni speciali potranno avere soldi da spendere con le proprie competenze, sia che siano investimenti diretti, sia che siano aiuti alle imprese attraverso bandi e quant'altro, nulla. Quindi né a livello di criteri né a livello di suddivisione tipologica, perché voi sapete che per il 60% è a debito il recovery plan da restituire in 30 anni e per il 40% a fondo perduto. Quindi insomma tutti giustamente ci hanno chiesto le categorie, il Consiglio provinciale, i sindacati, ma allora che progetti avete portato giù e che cosa sarà di questi progetti? Non siamo in grado di rispondere. Confidiamo assolutamente che il nuovo governo, al quale le regioni tutte insieme hanno già scritto una lettera, sia in grado di dire alle medesime che cosa succederà sui progetti di livello regionale.